ciao a tutti oggi prepareremo la torta mela arancia il tempo di preparazione della ricetta di un'ora circa ingredienti sono mele arancia uova olio di semi di girasole zucchero farina di tipo 00 lievito per dolci vanigliato sale pasta d'arancia che è facoltativa e confettura di albicocche diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccare l'arancia che abbiamo tagliato in quarti con tutta la buccia e la facciamo frullare per 20 secondi a velocità 8 mettere da parte mettere nel boccale lo zucchero ed azionare il bimbi per 20 secondi a velocità 10 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere le uova ed azionare il bimbi per 8 minuti 37 gradi velocità 4 senza misurino aggiungere la farina l'olio l'arancia tritata la pasta d'arancia il sale e il lievito ed azionare il bimbi per due minuti a velocità 5 trasferire il composto in una tortiera da 24 centimetri ben imburrata posizionare le mele a fette lasciando il centro libero al centro mettere le mele a cubetti mettere la confettura sulle mele cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 40 45 minuti circa fare sempre la prova a stecchino la torta è cotta lasciare raffreddare completamente prima di rimuovere dallo stampo e servire torta mela arancia grazie e alla prossima ricetta la torta è cotta preriscaldato statico la torta è cotta la torta è cotta la torta è cotta la torta è cotta proprio Grazie a tutti.